Lui è un giornalista e saggista, nella sua lunga carriera ha collaborato con numerose testate come la Gazzetta del Popolo, Paese Sera, Indipendente, Unità, Italia Oggi. Dal 1994 è stato corrispondente da Parigi per varie media, è stato insegnito nel 2004 dal presidente Chirac del titolo di Cavaliere dell'Ordine Nazionale del Merito della Repubblica Francese e nel 2013 anche dal nostro presidente Giorgio Napolitano del titolo di Cavaliere dell'Ordine del Merito della Repubblica Italiana. È collezionista di giornali antichi, francesi e italiani che sono stati anche in parte donati al Musée des Valides di Parigi e attualmente è presidente del Club della Stampa Europea di Parigi. Alberto Toscano. Grazie. Ti ringrazio tantissimo, io sono il contrario all'idea e alla prassi di darsi del lei in pubblico dandosi del tuo in privato. Quindi ringrazio te, ringrazio la direttrice della biblioteca, dottoressa Donatella Agnetti, ringrazio il caro amico Alberto Sinigaglia. Tutti voi mi avete proposto di venire qui ad Asti, questa volta di persona, essendoci stato l'anno scorso solo tra virgolette, perché è stato comunque un impegno con l'esposizione dei giornali sulla Prima Guerra Mondiale. L'anno 36. Premetto che la scelta è stata quella di percorrere l'anno 36 attraverso la stampa francese. Allora, forse non è molto popolare parlare della stampa francese nella città del Misogallo, anzi quasi nella casa di Alfieri il Misogallo, ma insomma voi mi perdonerete, io credo che la scelta della stampa francese fosse quasi obbligata, nel senso che la stampa italiana del 36 non era una stampa libera ovviamente. Quindi se vogliamo vedere gli avvenimenti del 36 dobbiamo scegliere quella di un paese dove ci fosse allora la libertà di stampa e la Francia tra questi paesi era evidentemente più vicino all'Italia. Gli eventi che dominano il 36 sono una lezione, del resto se il tema del convegno di Passepartout è il 36, il 2016, la menzogna e le prove di forza e tutto quello che ne può conseguire in politica è perché l'anno 36 è un anno da questo punto di vista esemplare. Il 36 è la dimostrazione di come l'ipocrisia non paghi in politica, di come la menzogna abbia le gambe corte in politica. Tre avvenimenti lo caratterizzano e in tutti questi tre casi la menzogna non ha pagato, l'ipocrisia non ha pagato, l'ipocrisia ha fatto il gioco del più forte, ha trasformato un colpo di forza in dato di fatto, in situazione definita per cambiare la quale poi si sono dovuti fare dei sacrifici molto maggiori di quelli che si sarebbero dovuti fare da parte dei paesi democratici per mettere in discussione quel colpo di forza quando è stato realizzato. Tre date. Il 7 di marzo Hitler invade la Renania con le sue forze armate. La Renania demilitarizzata a seguito del trattato di Versailles del 1919 e del trattato di Locarno del 1925 viene rioccupata militarmente dalla Germania. Ridiventa postazione avanzata della Germania sul Reno verso la Francia. Città come Colonia, Colonia tornano ad essere militarizzate. Ed in questo contesto la reazione dei paesi vincitori della Prima Guerra Mondiale, Italia compresa, è una reazione mite, una reazione di incertezza. E la forza del fatto compiuto di Adolf Hitler alla fine è alla meglio. E questo apre una serie di vicende che sono illustrate nella parte sulla Germania dell'esposizione dei giornali del 36, che spero avrete la pazienza di seguire dopo in una visita guidata. questa raffica di avvenimenti porta al congresso del partito nazionalsocialista a Norimberga nell'autunno del 36, nel settembre del 36, subito dopo le Olimpiadi di Berlino, che Hitler vive come un trionfo personale. Malgrado, e per fortuna che c'è stato, il triplice successo dello straordinario Jesse Owens a quelle Olimpiadi, che ha costretto, almeno grazie a Jesse Owens, Adolf Hitler, un po' di umiltà. Il congresso del partito nazionalsocialista a Norimberga è l'apologia del regime nazista. E' la dimostrazione che la forza del regime nazista ormai è certamente irreversibile dall'interno della politica tedesca. Questo è il primo avvenimento, quel 7 marzo, le cui vicende potrete vedere sfogliando il libro dell'illustration rilegata, che è lì a disposizione del pubblico, si possono proprio vedere, ho preferito esporre il libro e avere fiducia nel pubblico astigiano per naturalmente la conservazione del libro medesimo, che tutti possono sfogliare vedendo pagina dopo pagina come gli avvenimenti di quel 7 marzo avessero provocato nell'opinione pubblica dei paesi democratici, Francia e Gran Bretagna, in primo luogo, un senso di perplessità ma anche di impotenza. Hitler ha partita vinta e questa partita vinta di Hitler porterà a una serie di partite vinte che si concluderanno a Monaco nel settembre-ottobre del 1938 e quei giorni di fine settembre 1938 con i benefici dividendi del successo ottenuti da Hitler nel mese di ottobre e da Mussolini che verrà salutato trionfalmente dalle folle italiane quando rientrerà attraversando il Veneto in treno da Monaco verso Roma, salutato come l'angelo della pace, lui reagirà dicendo angelo della pace a me, io vi piazzo subito le leggi razziali e vedete come sono angelo della pace e le piazzò di fatti in quel tragico mese di ottobre del 1938. C'è una catena che parte da quel 7 marzo del 1936, tre anni esatti dopo il gennaio del 1933 la vittoria di Hitler alle elezioni in Germania e la sua scesa al potere e che porta a Monaco 38 e porta alla tragedia di quel primo settembre del 1939 con l'inizio della seconda guerra mondiale. E dal 7 di marzo del 1936 al 9 di maggio il passo è breve. Il 9 di maggio è il secondo fatto compiuto. È il fatto compiuto di Mussolini che vinta la guerra in Etiopia proclama la nascita dell'impero. E ancora una volta le potenze occidentali, democratiche, accettano il fatto compiuto. Quegli stessi paesi che avevano con la coscienza sporca deciso le sanzioni alla società delle nazioni nell'ottobre del 1935 all'inizio della guerra d'Etiopia, dell'attacco italiano a uno stato, l'Etiopia, indipendente, uno dei pochissimi, due stati indipendenti del continente africano, membro della società delle nazioni. Quelle potenze che avevano proclamato le sanzioni non reagiscono al trionfo italiano. E hanno la coscienza sporca perché l'Africa ha solo due stati indipendenti perché gli altri sono colonie francesi, britanniche, tedesche e di altri paesi. Loro fanno una politica coloniale. E la contraddizione che li porta a non reagire in questo caso al fatto compiuto violento, aggressivo di Mussolini è una constatazione che parte dalla loro stessa situazione di paesi colonialisti che reprimono qualsiasi spinta di indipendenza in Asia e in Africa. I francesi in Indocina nel 1930 lo avevano fatto, gli inglesi l'hanno fatto in Asia e in Africa. Dunque, la molla che spinge alle sanzioni, benché ammantata da una veste morale, è una molla di puro interesse. Io nell'esposizione ho voluto proporre una cartina di un giornale francese, l'Excelsior, che disegna, propone, illustra, la divisione tra le zone di influenza nel corno d'Africa, in Etiopia, in Somalia. Quindi gli inglesi hanno la Somalia britannica, i francesi hanno i Djibouti, gli italiani hanno la Somalia italiana. L'Etiopia, benché teoricamente indipendente, è il risultato, lo si vede benissimo in quella cartina, di un puzzle di zone di influenza francese, britannica e italiana. Questo è la faccia dell'indipendenza. Dunque, le potenze democratiche che non reagiscono all'osceno, osceno, trionfo mussoliniano in Etiopia, che provoca massacri, e ho voluto esporre una foto in cui si vedono i corpi nelle strade di Addis Abeba. Certo, quella foto non è mai uscita sulla stampa italiana. Dunque, questo successo mussoliniano la fa franca, diventa un fatto compiuto, il secondo grande, drammatico fatto compiuto dell'anno, a causa del fatto che nessuno è in condizioni, per una ragione morale, prima ancora che politica, di reagire a questo. E quindi, il successo mussoliniano, poi, si esprime, ci sono due copertine dell'illustration, una accanto all'altra. Una è una copertina, l'altra è una prima foto, è una copertina interna, insomma, lo vedrete. In una si vede un Negus ai Les Lassiers, che ai primi di maggio, fino ad aprile, inizio maggio, lascia Addis Abeba, arriva ad Haifa, in Palestina, altra zona calda di quell'anno, a causa degli scontri tra popolazione di origine ebraica e araba, arriva in Palestina, che è sotto mandato britannico, da Haifa arriva a Ginevra, a Ginevra va alla Società delle Nazioni, lo stesso consesso che nel mese di ottobre aveva sostenuto ai Les Lassiers contro l'Italia, aveva proclamato le sanzioni. Questa volta parla a Ginevra, all'Assemblea della Società delle Nazioni, è una scena impressionante, che un giornale francese lì è presentato, illustra anche con una foto, perché alcuni giornalisti, e mi spiace dirlo, e mi spiace dirlo, essendo io stesso giornalista, e parlando in presenza del Presidente dell'Ordine dei giornalisti del Piemonte, e essendoci, sapendo che altri giornalisti sono in sala, il nostro mestiere, quel giorno, espresso, identificato, con persone che non meritavano di esprimerlo, è sceso in basso, perché, mentre il Negus parlava, alcuni giornalisti italiani, accreditati per la stampa italiana, dal pubblico, dai banchi della stampa, non del pubblico, hanno urlato insulti al Negus, a un capo di Stato sconfitto, da parte di un esercito aggressore. Sono stati portati fuori dal servizio di sicurezza, questi giornalisti italiani, ed è stata una scena triste, in un contesto triste, perché alla fine, questi illuminati rappresentanti delle potenze democratiche, in particolare Francia e Gran Bretagna, dopo ampie discussioni, e dopo varie riunioni, hanno tolto le sanzioni all'Italia. E questa Italia, il fatto compiuto, è stato anche ufficialmente avvallato dalla comunità internazionale. Ho messo lì nell'esposizione un reportage da Ginevra dell'Illustration, settimana del francese, molto intellettuale, di alto profilo, che rende conto di queste discussioni, e fa anche vedere la foto di questi ministri e gli esteri, che parlottano tra di loro nel cortile della Società delle Nazioni, per decidere niente, se non di fare una marcia indietro. Secondo fatto compiuto, secondo atto di forza, che ha avuto via libera a causa dell'acquiescenza della comunità internazionale. il terzo è forse il più impressionante, il più triste, quello che ha marcato in modo più doloroso l'anno del 36, la più grande serie di menzogne e di ipocrisie il cui peso, il cui prezzo, sono arrivati poi fino alla Seconda Guerra Mondiale, che è stato l'antefatto della Seconda Guerra Mondiale, cioè la guerra civile spagnola. Qui c'è un problema. Il problema è che, ed è una lezione anche per la democrazia di oggi, il confronto democratico, l'alternanza democratica sacrosanta in un sistema in cui si vota per decidere chi governa, funziona laddove le istituzioni possono supportarla. Amici miei, abbiamo visto purtroppo il sogno democratico delle rivoluzioni arabe di qualche anno fa dove ha portato. Evidentemente dire questo non significa negare l'importanza, sarei un imbecille se negassi l'importanza delle... Ma significa dire che la democrazia è una macchina pesante che dove non può reggere il frutto del voto popolare porta a tragedie talvolta ancora più grave di quella che hanno esperato, che hanno ispirato l'inizio della rivolta. E dunque questo bisogna saperla, saperlo quando si scommette sulla democrazia. La democrazia è difficile da gestire. la democrazia alle elezioni in Algeria del 1991 ha portato alla vittoria parziale degli estremisti islamici e l'annullamento delle elezioni stesse da parte dei militari algerini tra il primo e il secondo turno ha portato a una rivolta che ha fatto 200.000 morti in Algeria e che ha visto l'esplodere dell'estremismo islamico in Algeria. Dico questo perché naturalmente le elezioni spagnole del febbraio 1936 sono un momento storico di avanzata della democrazia in Spagna. Storico. La democrazia spagnola non ha retto. il sistema spagnolo il sistema Spagna non ha retto. La rottura con i militari dell'estrema destra è stata tale da portare alle elezioni sono del mese di febbraio il governo del fronte popolare repubblicano vede il PUC prima una serie di incidenti di cui si parla tra l'altro nell'esposizione incidenti di strada parecchi morti in varie città spagnole e poi il PUC del mese di luglio le forze armate che dal Marocco risalgono la Spagna la guerra civile allora noi oggi col seno di poi diciamo quella democrazia non ha retto i repubblicani non sono stati in grado di far fronte a un'ondata aggressiva dei golpisti dell'estrema destra militare che volevano sopprimere la democrazia però allora c'erano paesi che si dicevano democratici e ancora una volta la Francia e la Gran Bretagna e ancora una volta si tratta di una Francia e di una Gran Bretagna che nel caso della Francia sono gestite da un governo di fronte popolare perché mentre Bussolini proclama l'impero il 9 maggio del 1936 cioè nel momento stesso guarda a casa in cui i francesi vanno alle urne per il secondo turno delle loro elezioni politiche legislative dicono i francesi che porteranno alla vittoria delle sinistre e quindi del fronte popolare sul modello di quanto era successo poco prima nel febbraio in Spagna Mussolini fa questo il governo del fronte il primo ministro designato del fronte popolare Léon Blum in un contesto difficilissimo di aggressioni anche personali perché nella stampa francese c'è una stampa di estrema destra di un'aggressività estrema che fa titoli di un antisemitismo indecente nei confronti dell'ebreo Léon Blum l'ebreo è socialista Léon Blum del titolo guardate il suo naso e capirete che non è francese a questo livello questo era l'antisemitismo dell'estrema destra in Francia nel 1936 malgrado fossero passati 40 anni dall'affaire de Riffus dunque la Francia del mese di maggio del 36 è una Francia che è impegnata in consultazioni per formare il governo è una Francia paralizzata e questo naturalmente fa il gioco tornando al capitolo di prima di Mussolini del dare per scontato il fatto compiuto della nascita dell'impero dell'annessione dell'Etiopia ma nel mese di luglio il governo in Francia è un governo di sinistra è il governo del fronte popolare in Spagna c'è un fronte popolare minacciato da un golpe fascista per farla breve e questo governo francese che dovrebbe esprimere un senso di solidarietà ai propri cugini spagnoli rifiuta di impegnarsi dal lato della Spagna e la Gran Bretagna fa la stessa cosa queste prime pagine di quei giornali io ho messo ho scelto per il mese di novembre di mettere una dozzina di numeri del principale quotidiano francese Le Petit Parisien faceva un milione di copie quel giornale lì non era mica noccellini c'era scritto sotto la testata il giornale più letto del mondo intero perché i francesi come si sa sono sempre modesti nelle loro affermazioni questo quotidiano Le Petit Parisien che poi diventerà collaborazionista nel 40 e verrà proibito cancellato nel 44 dal generale De Gaulle come tutti i giornali francesi divenuti collaborazionisti quasi tutti perché uno no il quotidiano cattolico non verrà cancellato ma la Chiesa si sa riesce e la Chiesa cattolica francese riuscì meravigliosamente apro una parentesi scusatemi perché la Chiesa per farsi perdonare gli anni di Vichy manda un nunzio apostolico il Vaticano manda nell'estate 44 un genio come nunzio apostolico a Parigi diventerà Papa con il nome di Giovanni XXIII ecco quindi Giovanni XXIII riesce a dare un volto delle relazioni franco-vaticane diverse rilanciarle su un nuovo base riesce a costruire un capo lavoro diplomatico e in queste pieghe il quotidiano cattolico La Croix io ogni tanto ci scrivo qualche articolo e oggi lo considero un eccellente giornale riesce a proseguire ma gli altri quotidiani francesi gli altri giornali francesi tutti settimanali quotidiani quelli che erano usciti negli anni della collaborazione vengono chiusi le temps che voi vedete lì il quotidiano intellettuale francese che tira 70.000 copie però è l'elite il quotidiano dell'elite è un quotidiano della sera è un quotidiano dell'elite esce a Parigi nel pomeriggio con la data del giorno successivo dalla fine del 44 cambierà titolo e diventerà Le Monde con la sede nello stesso palazzo a Parigi con una parte della stessa una parte della redazione che c'era prima del collaborazionismo ma insomma il Petit Parisien nel 44 verrà cancellato ma nel 1936 è il rivelatore migliore delle percezioni dell'opinione pubblica francese e nel novembre del 1936 guardatevi quei giornali di novembre non sono esattamente in ordine cronologico ma avrete la bontà di ricostruirvelo nella vostra mente sono uno a fianco all'altro comunque nel novembre del 1936 c'è un giornale che dice Hitler e Mussolini riconoscono il governo di Franco e sostengono apertamente Franco e lo sostenevano a come? inviando armi e poi invieranno volontari i volontari mio nonno volontari inviando soldati camuffati da volontari in Spagna a combattere e a sostenere Franco e quindi queste due potenze quel giornale lo dice che cattivi Hitler e Mussolini la Germania e l'Italia che sostengono intervengono dalla parte di Franco e poi pochi giorni dopo c'è un titolo che dice che saggezza la Gran Bretagna che decide di rimanere neutrale davanti alla guerra civile spagnola eccolo lì eccolo lì il risultato ecco lì la menzogna il tema il nostro tema del convegno eccola lì l'ipocresia eccola lì l'accettazione del fatto compiuto con le conseguenze che sappiamo poi il paese che interviene è un altro paese dittatoriale interviene dall'altra parte l'Unione Sovietica di Stalin ci saranno certo anche i volontari dell'Europa intera e del mondo intero che andranno a battersi coraggiosamente con i repubblicani spagnoli ma il paese che interviene come potenza come stato dalla parte dei repubblicani si chiama Unione Sovietica e i paesi che intervengono come stato dalla parte dei golpisti franchisti si chiamano Germania e Italia con una Francia che riceve gli immigrati c'è una copertina c'è una foto una copertina dell'illustrazione lì di questi immigrati che arrivano a Andai la prima città francese al confine spagnolo questi disperati che attraversano un confine bombardato a poche centinaia di metri dal lato spagnolo e che arrivano in Francia e i francesi li mettono in campi di concentramento è troppo dire ma insomma in campi in campi sono rifugiati c'è persino una piccola foto piccola ma bellissima con le spiegazioni di un giornalista francese un inviato speciale meno male che ci sono giornalisti diversi caro Alberto e che danno lustro al nostro mestiere malgrado il comportamento di altri che purtroppo il nostro mestiere è fatto c'è di tutto come in tutti i mestieri nel nostro mestiere e questo giornalista che attraversa di corsa il confine franco-spagnolo venendo dalla Spagna naturalmente verso la Francia con un bambino spagnolo probabilmente orfano probabilmente i genitori erano morti sotto un bombardamento e salva questo bambino correndo verso la Francia e c'è la foto lì è piccolina rotonda ma guardate e quindi questa accettazione del fatto compiuto spagnolo solo che il fatto compiuto spagnolo va avanti mesi anni occupa tutto il 36 lì ci sono le copertine della battaglia di Madrid di Toledo dell'affondamento di una nave dei repubblicani da parte dei golpisti con i marinai che cercano di salvarsi ci sono scene drammatiche e c'è una copertina impressionante una prima e ultima copertina di un altro che sono insieme nell'esposizione di un altro settimanale illustrato che non è l'illustration ma è Le Miroir du Monde è un settimanale con un profilo un po' più popolare dell'illustration costa meno e si vede in ultima pagina una scena della guerra civile spagnola e in prima pagina il presidente della repubblica francese Albert Lebrun con i nipotini tranquillamente a fare le vacanze questo è l'atteggiamento un'Europa democratica che cerca di sentirsi tranquilla di chiudere gli occhi davanti a crisi che la sconvolgeranno e la travolgeranno questi sono i tre fatti compiuti ce n'è un quarto molto più lontano da noi a cui si accenna proprio nell'ultimo pannello dell'esposizione ed è quanto sta accadendo in Giappone e in Cina perché nel 36 il Giappone spingendo alla secessione alcune province di una Cina ormai di fatto smembrata e impotente retta solo teoricamente dal presidente Chiang Kai-shek il Giappone di fatto interviene in Cina l'intervento ufficiale sarà solo nel luglio del 37 l'invasione vera e propria ma già il Giappone controlla la Manciuria si espande in una parte della Mongolia interna insomma si espande in altre parti della Cina ed è in questo contesto che il 12 dicembre del 36 avviene il cosiddetto incidente di Xi'an cioè alcuni capi militari di una provincia cinese visitata dal presidente Chiang Kai-shek sequestrano Chiang Kai-shek imponendogli se vuole tornare in libertà di fare il fronte unito con i comunisti contro cui Chiang Kai-shek sta combattendo con tutte le sue forze per opporsi all'invasione di fatto era già un'invasione giapponese questo momento l'incidente di Xi'an che ha un posto enorme importantissimo nella ricostruzione storica fatta dal partito comunista cinese dopo la presa del potere nel 49 e quindi nelle opere di Mao Zedong questo fatto dell'incidente di Xi'an e l'importanza che gli viene data proprio nella ricostruzione storica della Cina attuale ci fa riflettere lo dico tra parentesi in solo poche parole su un punto importante ma su cui ancora una volta vale la pena riflettere anche alla luce del tema che avete scelto per questo convegno il comunismo in Cina ma anche altrove vince grazie al nazionalismo e si rivela poi forte grazie al nazionalismo dove resiste non dove scompare evidentemente Mao Zedong diceva solo il socialismo può salvare la Cina e gli apologeti soprattutto stranieri di Mao Zedong hanno sempre pensato che l'accento fosse sul socialismo e non sul nazionalismo invece non era il nazionalismo essere uno strumento del comunismo ma il comunismo essere uno strumento del nazionalismo e la storia cinese ce lo mostra oggi la Cina è un paese nazionalista che si serve del comunismo per gestire il potere in una forma autoritaria quello che è sopravvissuto quello che ha dominato nella storia è il nazionalismo non il sistema sociale comunista tanto è vero che insomma è difficile trovare un paese più ultraliberale nei rapporti di produzione della Cina attuale ma rimane comunista perché è nazionalista l'incidente issiane le vicende del 36 l'anno dopo la fine della lunga marcia che aveva permesso alle forze rivoluzionarie di Mao di uscire dall'accerchiamento delle forze nazionaliste di Chiang Kai-shek ha portato alla vittoria di nazionalisti che erano ben più nazionalisti dei nazionalisti che si dicevano nazionalisti scusate il bisticcio di parole ma ritorno al nostro anno 1986 altre vicende a cui faccio cenno molto brevemente dicevo in Palestina comincia un contrasto che non avrà mai fine fino a oggi le due comunità arabe ed ebraiche si affrontano in modo sempre più aperto sempre più violento i morti sono sempre più numerosi i britannici che esercitano il mandato non riescono a gestire questa situazione fanno promesse contrastanti agli uni e agli altri sia in loco sia in sede internazionale considerate che la Palestina in quel momento il mandato britannico che arrivava fino ad Amman includeva l'attuale Giordania quindi la Cisgiordania e le Transgiordania la crisi quella crisi ahimè durerà a lungo e il momento la scintilla è proprio lì è proprio nella rivolta araba del 36 contro gli inglesi ma anche contro la popolazione ebraica che diventa sempre più numerosa con l'afflusso di immigrati dall'Europa questa è una constatazione qui c'è poco da dire constatiamo che nel 36 è successo anche questo constatiamo che nel 36 è successo anche un come dire una tragica media britannica con la vicenda della corona britannica alla morte di re Giorgio V c'è l'ascesa al trono di suo figlio primogenito Edoardo VIII che deve poi dimettersi in dicembre a causa della sua relazione con la bella americana due volte divorziata Wallis Simpson e questa relazione essendo manifestamente respinta sia dalla famiglia reale sia dall'opinione pubblica britannica porta all'abdicazione di Edoardo VIII e all'ascesa al potere del fratello con nome di Giorgio VI guardate quelle copertine sono molto belle a parte alcune foto sono molto rare interessanti si vede a un certo punto la conversazione tra Wallis Simpson con Edoardo VIII credo sia avvenuta in Grecia con il presidente turco Kemal Ataturk personaggio straordinario padre della Turchia moderna padre della Turchia laica speriamo che resista a Erdogan ma insomma fino adesso la Turchia è stata laica Kemal Ataturk che quella cattiva di d'ascalia francese definisce un dittatore in realtà è un padre della patria un musulmano che ha il coraggio di parlare con una signora due volte divorziata e farsi fotografare mentre parla che non ha nessuna reticenza di questa natura d'altra parte secondo il figlio di Ben Yehuda e Ben Yehuda il fondatore della lingua ebraica moderna durante la prima guerra mondiale quando Kemal Ataturk era soldato dell'impero ottomano in Palestina confessò appunto al figlio di Ben Yehuda che viveva in Palestina anche un padre di essere che la sua famiglia era di origine ebraica quindi non dite l'Erdogan che il fondatore della Turchia moderna sosteneva di essere di origine ebraica e vediamo e come vedete questo puzzle di crisi con i paesi democratici paralizzati da vicende talvolta insomma da rotocalco ma che hanno avuto un effetto politico dirompente allora Giorgio VI e i giornali di tutto il mondo che si appassionano a questa famiglia bellissima di Giorgio VI con quelle due bambine abbiamo visto tutti il film e il discorso del re questa famiglia appassionante quella moglie appassionante quell'uomo che ispira tenerezza diversamente dal fratello con quell'aria così burbera e quelle due bambine tale Elisabeth e tale Margaret con una diascalia che mostra Elisabeth lì nell'esposizione che si tira sulle calze da bambina una decina d'anni e dice oh come è anticonformista quella piccola Elisabeth è ancora regina d'Inghilterra vabbè sentite questo è l'anno 36 con le sue luci poche e le sue ombre tante tra le sue luci c'è la comunicazione è l'anno in cui la comunicazione esplode ed esplode attraverso un mezzo di comunicazione che si conosceva la radio ma che nel 36 diventa popolare e diventa popolare per ragioni diverse ma quasi allo stesso modo nelle dittature e nelle democrazie gli oggetti i fetici del 36 sono la radio e l'automobile e i due diventano popolari ripeto quasi allo stesso modo ma per ragioni diverse nelle dittature e nelle democrazie perché il 36 è l'anno in cui almeno usciamo dalla crisi del 29 finalmente si tira un sospiro di sollievo la produzione non è ancora ovunque quella di prima della crisi ma finalmente si ha l'impressione di ripartire è un anno di ripartenza in più ci sono le nuove tecnologie tecnologie più vecchie la radio si conosceva ma diventa nuova perché l'oggetto può essere prodotto più facilmente e le stazioni radio sono più facili da realizzare dunque in questo clima c'è dell'ottimismo nelle società e gli oggetti feticio sono la radio e l'automobile dunque la radio in Francia in Gran Bretagna negli Stati Uniti è oggetto di una spinta alla produzione da parte delle grandi imprese che mettono sul mercato modelli di varia gamma da quello che costa poco a quello prestigioso ho esposto nella mostra delle pubblicità di radio che la dicono lunga in proposito nelle dittature la radio è un formidabile sistema di condizionare l'opinione pubblica ecco quindi sia la Germania sia Radio Marelli per l'Italia mussoliniana buttarsi a capofitto nella produzione di sistemi di radio di ricettori radio di basso costo al tempo stesso lo stesso fenomeno avviene per l'automobile ci sono auto di lusso e ci sono il 36 l'anno in cui nasce la Topolino la Fiat 500 Topolino e ci sono e l'anno in cui l'oggetto il feticio il mito automobile può naturalmente non è disponibile per classi sociali disagiate ma può essere sognato realisticamente dalla classe media con una parentesi drammatica perché sono auto poco sicure i pedoni nelle strade non sono abituati alla presenza dell'auto il numero di morti sulle strade francesi britanniche è impressionante è praticamente uguale a quello di oggi nel 36 è una strage soprattutto strage di bambini ma insomma queste statistiche sono rarissime le ho trovate spulciando tra i giornali quindi noi abbiamo questi due miti consumisti di un consumismo che rinasce che nasce più che rinasce sia in Italia e in Germania sia in Francia e in Gran Bretagna e negli Stati Uniti la società si risveglia e sogna e sogna anche un nuovo modello femminile ho messo nell'esposizione alcune immagini della pubblicità e di prime pagine di giornali con il modello femminile nuovo dinamico di questo momento e infine la televisione e qui concludo la televisione che è ancora un oggetto sperimentale però il salone del TSF si diceva in francese TSF perché i francesi la parola radio l'hanno usata tardi dicevano telefonia senza fili o telecomunicazioni senza fili quindi TSF quindi questo salone della TSF che si svolge a Parigi nel Port de Versailles nel mese di settembre del 36 vede per la prima volta presenta al signor Rossi o al signor Dupont che va a visitare il salone l'oggetto misterioso della televisione e l'illustration presenta questa televisione come con un occhiello che dice oggi prodezza scientifica oggi oggi giocattolo domani grande industria oggi giocattolo domani grande industria ci avevano azzeccato bene grazie per l'attenzione se poi volete vedere l'esposizione grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti